Buon pomeriggio a tutti, dunque Fratelli d'Italia ha nuovamente incontrato con la sua delegazione il presidente incaricato Mario Draghi, è stato un incontro interessante, tutto basato sui contenuti, del resto noi non abbiamo altre questioni da porre come questioni legate agli spazi nel governo e quindi ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti. Voi sapete che ieri Fratelli d'Italia ha fatto anticipare a questo incontro, come aveva promesso al presidente incaricato, una serie di proposte, di documenti. Chiaramente non mi aspettavo e non mi aspetto che Mario Draghi avesse il tempo di leggerle ieri notte, ma credo che questo configuri anche l'atteggiamento di Fratelli d'Italia verso il presidente incaricato e verso il prossimo governo. La nostra posizione è immutata, Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a Mario Draghi, ma come abbiamo detto siamo a disposizione della nazione per tutto quello che può essere utile e per cercare di essere utili abbiamo preferito mettere nero su bianco già ieri con una lettera al presidente Draghi e oggi abbiamo chiaramente ripreso molti di quei contenuti, il lavoro che Fratelli d'Italia ha condotto in questi mesi e in questi anni su alcuni dei principali dossier che sono aperti.